Finanziamenti in arrivo per i musei archeologici di Ostia Antica, Fiumicino e Cerveteri. Il Comitato Tecnico Scientifico del MIBACT ha approvato un piano di investimenti pari a quasi 600 milioni di euro per realizzare interventi in tutta Italia. In particolare nel nostro territorio i lavori interesseranno il Parco archeologico di Ostia Antica. 3 milioni di euro saranno spesi per migliorare l'accessibilità ed eliminare le barriere architettoniche negli scavi. 1 milione e 700 mila euro andranno invece al Museo delle Navi di Fiumicino. L'obiettivo è verificare il rischio sismico e ridurre la vulnerabilità dei reperti. Non poteva mancare la necropoli della banditaccia di Cerveteri a cui andrà 1 milione di euro per le operazioni di recupero e di restauro. Il denaro arriva dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale istituito dalla legge di bilancio 2017 e risponde a una visione organica del governo che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale sulle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori. Si spera dunque che grazie a questi interventi il numero dei visitatori aumenti considerevolmente, soprattutto perché nonostante la presenza di opere di assoluto pregio, nessuno dei tre siti ha mai raggiunto un elevato numero di visite. Basti pensare al museo alla necropoli di Cerveteri, dove nel 2017 si è registrato l'ennesimo calo dei turisti, 286 in meno rispetto al 2016.